Buon sabato sera da Domenico Tomba in diretta dal Palalido di Valdagno, la giornata è la numero 7 del 102esimo campionato di Serie 1 di Hockey Pista. Tutto pronto, comincia Facin per Checco Compagno e prova ad andare via il 77. Intanto c'è questa pallina dentro, attenzione Sanchez, subito l'opportunità per lui. Ancora prova ad andare lui, ci mette una stecca proprio Facin che fa ripartire Checco Compagno, la botta, la ripartenza e la botta di Compagno. 1-0 Lodi. Che gol qui Checco, ripartenza non ci pensa due volte, arriva al limite. Lungo la balaustra, Sanchez prova ad accentrarsi, Sanchez in velocità. C'è il cartellino blu. Parte Giuliani, un paio di ganci, gli sfugge la pallina, non riesce a concludere. Non è, perché c'è Checco Compagno lì. C'è il cartellino blu anche per Bovo. Ingenuità difensiva qui del Valdagno. Facin, il Cicri contro il giovane Cunegatti. La parata del Cune. La risposta è poi, attenzione al Ciuppe dall'altra parte, vai giù. Ci sarà punizione di prima, sulla ripartenza. C'è un bellissimo 3 contro 3. Quarto giocatore di movimento da parte della squadra, ospite Sanchez contro Grimalt. Vediamo un po'. La botta di Sanchez, la risposta di Grimalt. Ultimi 50 secondi di questo bel primo tempo tra Valdagno e Lodi. Adesso qui, tutto pronto. Ancora Sanchez. E' il gol di Sanchez! E' il Diablo! La pareggia lui! 43 secondi da giocare. Fa 1-1 Tiago Sanchez. Andiamo a vedere come ripartono le due formazioni Lodi con Grimalt in porta. Giovannetti, Najera tra Lazzarotto. Forse la... La prima. Sanchez lì subito. Doppio... Doppia opportunità sulla ribattuta di Grimalt. Bomba qui. Potenziale 2 contro 1 Valdagno. Prova a metterla lì. Recupera lui. L'assist per Najera. Ha cercato il tocco al volo Nadini. Tenti a Facin. Facin. Prova a incrociare. Najera prova a andare lui. C'è il gol. Attenzione! C'è il gol di Checco Compagno. 28 secondi da giocare. Sanchez. Sull'ultimo tentativo. Finisce qua l'ultimo tentativo. La mette lì Grimalt. E dunque Lodi e Spugno Valdagno. Ha 28 secondi dalla fine.